Benvenuti cari follower. Si prevedono quindi temporali molto forti in Italia nella tarda notte di sabato 26 agosto 2023 e tra poche ore. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticatevi innanzitutto di sostenerci con ammirazione per questo video e di condividerlo con tutti onde evitare brutte ed improvvise intemperie, grazie. Quindi, come vi ho confermato nel video di ieri? Sono attesi temporali molto forti sabato in tarda nottata, nelle regioni più settentrionali d'Italia, nello specifico le aree all'interno del cerchio rosso. Questi temporali si attiveranno a causa dell'alta temperatura, il fenomeno della convezione. Questi temporali saranno accompagnati da forti precipitazioni di grossi chicchi di grandine con abbondanti piogge e forti venti, soprattutto su Milano e regioni limitrofe. Invitiamo quindi tutti i cittadini che vivono al nord a prestare attenzione, perché i temporali saranno attivi stasera tardi, sabato, in entrambe. Valle d'Aosta, Lombardia, Trento Alto Adige, Friuli Venezia, Giulia Liguria, Piemonte. E andrà avanti fino a domani, domenica almeno. E questo è in attesa di un temporale o uragano molto forte in Italia, a partire dalla mezzanotte di domenica fino alle prime ore del prossimo lunedì mattina. Ti forniremo i dettagli in seguito. Finalmente sei in buona salute.